Preghiera del mattino O Signore, permettimi oggi di trattare tutte le persone che incontrerò come hai fatto Tu, che non hai respinto coloro che prendevano di più di quello che davano, incoraggiando coloro che sono inquieti, reputando le persone dipendenti capaci di essere libere. Fammi vivere e restituire la gioia e la libertà che ci offri. Amen